RACCHITISMO VITAMINO RESISTENTE TARDIVO TIPO MEC CANCER RACCHITISMO TARDIVO, che insorge dopo i 5 anni o nell'adolescenza, e talvolta nell'età adulta, con sintomatologia dominata da dolori ossei, debolezza muscolare, cifo scogliosi, incurvamento degli arti inferiori e flessibilità ossea, cui corrisponde sul piano radiologico uno scheletro totalmente demineralizzato da confondersi con le parti molle, fratture multiple con una volatura secondaria, fosforemia molto bassa, con calcemia normale, fosfatase alcalina aumentata, il meccanismo patogenetico è sconosciuto, l'origine genetica sospettata ma non sicura, terapia con dosi elevate di vitamina D associata a somministrazione di calcio e fosforo.